I successi con le nazionali giovanili, poi il salto nella rappresentativa maggiore. Siamo così abituati a vedere Alessia Orro ai massimi livelli da dimenticarci che ha solo 22 anni. Tante emozioni, tante situazioni positive, negative. Comunque mi è capitato un po' di tutto in questi anni. Però sono contenta di non essermi bruciata, visto che ho bruciato un po' le tappe. E spero di continuare a crescere ogni giorno e di avere la testa sempre giusta per determinate situazioni o momenti. Tre anni a busto, fondamentali per la sua crescita. Ora Alessia vuole aiutare Monza a fare il salto di qualità tanto atteso. Credo che questa squadra sia molto brava e dimostri tanto in campo. Stiamo migliorando ogni giorno in palestra e credo che arriverà lontana. Ovviamente dipenderà da noi. Cosa ti aspetti per il tuo futuro a lungo termine? Non ho idea. Io vivo alla giornata e non lo so. Spero cose belle, spero di essere sempre felice in qualsiasi situazione ovviamente. Però ti giuro non ho idea. Anche perché questo è un anno importante. Arriveranno, speriamo finalmente, queste Olimpiadi e tu dovrai essere nel gruppo. Ovviamente si spera sempre. Però penso che ora bisogna stare concentrati sul campionato. Poi il resto viene da sé.